La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare con la quale sono state disposte misure cautelari personali, ovvero arresti in carcere e domiciliari nei confronti di 9 persone ed il divieto di dimora nei confronti di un altro individuo, nonché è stato emesso anche un decreto di sequestro preventivo su richiesta della Procura di Nocere Inferiore per oltre 54 milioni di euro. Sono stati eseguiti sequestri immobiliari in provincia di Salerno e sequestri di valori e di beni nelle province di Roma, Milano, Caserta, Napoli, Avellino, Novara, Frosinone e Varese. Si tratta dell'operazione Alveare che ha visto il coinvolgimento di 64 persone e 28 società e che scaturisce dalle indagini condutte della Procura Nocerina e dalle fiamme gialle, sviluppatesi attraverso accertamenti di tipo documentale e bancario. Le indagini hanno permesso di delineare i contorni di un fenomeno criminale di imponenti proporzioni, basato su una complessa organizzazione costituita da più soggetti e dotata di una base logistica con ramificazioni in Italia e all'estero. Si tratta di un'organizzazione architettata con il fine specifico di compiere principalmente reati fiscali attraverso la gestione e il controllo di un gruppo di società prive di reale strutture organizzative e capacità operativa e con lo scopo sia di emettere ed utilizzare fatture per operazioni inesistenti che di fornire liquidità in contanti ad imprenditori conniventi. La raccolta e l'esame del materiale investigativo ha permesso di formulare una serie di imputazioni cautelari che ricomprendono contestazioni in relazione ai reati di associazione per delinquere, riciclaggio, frode fiscali, truffa aggravata ai danni dello Stato, falso materiale commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e responsabilità amministrativa da reato degli enti. L'ordinanza è stata eseguita dai finanzieri della compagnia di Scafati con la collaborazione di altri reparti della Guardia di Finanza e dei militari specializzati dello Scico e Unità Cinofile Cash Dog.